Ci siamo, ci siamo, mister, mister, 10 partite e 30 punti, dai, è fatta, è fatta anche quest'anno, cosa dice? Troppo presto, eh? Dico che grazie ai ragazzi, anche se stasera hanno giocato bene, però mi hanno fatto un po' arrabbiare, troppi tacchi... Troppo, troppo leziosi, troppo leziosi, si sentì, ebbè ma lo strapotere della partita era tale per cui gli era concesso, dai. Sì, sì, è vero, abbiamo vinto, cinque pari, purtroppo presi, abbiamo già giocato al bersaglio, al bersaglio, al bersaglio, comunque bravi ragazzi, bravi. Eh ragazzi, complimenti dal mister, eh, eh, complimenti dal mister, eh, Julio, Julio, com'è, com'è? Eh, non sento più le dita di qua, neanche le dita, no?